Ciao a tutti, un nuovo video haul di acquistini ultimi Lo giro con la luce naturale con ventilatore A1 spero non si senta però sia un caldo assurdo e metterlo con la luce artificiale da follia così con questo chignon vestito da casa iniziamo il video spero non vi dia fastidio comunque per molti acquistini e cose interessanti notte da spianti, con dei prodotti cose carine e affascinanti iniziamo con le cose giusti, cose per il male, cose per la casa iniziamo con le cose per il mare io avevo un cuscino per il mare quello delle sulle matricine per quello più duro e avrò compratto questo rosa ho un nuovo porto da luce un nuovo universo cinese già ti è stato potuto possiamo tornare con questo mi piace poi mi piace da 6 euro a 3,90 euro da casa nuova questo spruzzino spruzzino qui spruzzato con la possibilità di metterci la fila e fa girare la ventolina c'è così c'è rosa c'è verde c'è tutti i colori a casa nuova viene 3,90 euro perchè è in sconto vediamo bene la sua scatola devo dare la scatola ecco qua che è questo fa vedere come funziona molto carino per due euro che è tantissimo da 6 euro a 3,90 euro sempre la mia mamma mi ha preso questa cionbellina a forma di cionbellino a mangiare a 7,90 euro faccio l'immagine della signorina che ha messo tutti questi zuccherini finiti non aveva di usarli ma non è molto propensa a utilizzarla perché sono troppo grandi per queste cose poi 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 ho preso un po' l'ampezzo però ho preso il pezzo del costume di sopra fatto così fatto così che si vede dietro a poco prezzo a poco prezzo ha lì per tutto l'interno bianco però come adesso l'ho pagato cioè mi ha arrivato la mia mamma sui 2-3 euro non mi ricordo non mi ricordo c'è l'eserci un peggio un peggio un peggio un peggio fantastico c'è ma non non c'è prezzo però a poco prezzo perché c'erano tutti i costumi scontatti non ho mai fatto così adesso poi 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 ho preso dai cinesi a 0,99 il nasto elastico che ci volevo fare con le maglie quelle con lo scollo che scopre tutte le spalle dovevo fare quello modificare alcune mie magie poi se vengono ve lo faccio sapere perché ci sono diversi tutorial su youtube se vengono ve lo faccio sapere perché io con il cuciere non sono molto pratica poi 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 se abbiamo dei prodotti i prodotti i prodotti sono anche i prodotti si sono se ne vengono allora da tigetta ho preso le spitiche non ti uso rimprescante alla frutta estiva ho scomento tantissimo a 0,99 sono i pacchetti da da borsetta da viaggio da 20 mi ha preso i due perchè io li ho preso in fatto li usiamo moltissimo quando siamo fuori casa questo da tigotage uno dei miei negozi preferiti spediche spediche un pescante profumo frutta estiva 0,99 sono inferta poi 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 questo qui sotto dai cinese ho preso a 5,99 euro questa spazzola con due con due una spazzola un po' più esfoliante e una massaggiante che io utilizzo per il massaggio sia delle gambe sia della pancia che ho sentito che aiuta molto la circolazione che mi aiuta molto le persone con problemi di cellulite io la sto provando da una settimana mi ci trovo bene e vedo anche le gambe più su gonfie quindi ci sono diversi tutorial su youtube di spazzoli però questa è interamente in bambù ho letto che sono le migliori quelle di spazzoli vegetali che non sono di origine animale e le sto provando e mi piace tantissimissimo poi questa comunque la trovate lungo questa non costa tanto io ve la consiglio mi si sta scaricando una batteria poi sempre in attività ho preso 5,99 euro equilibra aloe gambe leggere gel questa è la terza terza volta che le compro perchè entri tantissimo aiuta per i capillari per le tensioni di liga per le gambe gonfie aiuta io lo uso prima di questo alla sera e mi aiuta moltissimo è pagata a 5,99 5,90 per chiedere in offerta poi poi questa 2,99 le gocce oculari io di questa linea care ossia lo spray per le orecchie e lo spray per il naso che mi stavo molto bene ho preso le gocce oculari perchè l'altro giorno andando al mare mi sono irti moltissimo gli occhi mi buciavano tantissimo poi ho preso dopo puntura della zig zag pelli sensibili a meno di 5 euro dopo puntura perchè andando a mangiare fuori al ristorante mi hanno mangiata viva le zanzare l'ho dovuto prendere lo proverò a pelli sensibili perchè veramente a forza di grattarmi mi taglia proprio la pelle ho preso 2x1 di questo che era in offerta a 2,49 l'1 ne ho presi 2 uno per me e uno per il fidanzato che era in offerta 1 più 1 altrimenti c'è l'offerta 1 più 1 invece da ipershop da ipershop ci sono molti acquistini astra perchè astra mi piacciono moltissimo e di ipershop ho anche uno scontrino allora i due smalti gel effect questi qui la colorazione numero 54 e la numero 49 li ho pagati 2,90 euro io ho sulle dita questo da una settimana se il backup solo leggermente mi piace molto adesso proverò anche questo che in media camera si si risulta molto più scuro si è molto più chiaro di così proprio color nude 2,90 euro e sono ottimi sono veramente ottimi ve li consiglio poi ho preso 5,90 5,90 il 5 in 1 trattamento multiazione total direction base top coat di Trabora Milano ci troviamo sempre benissimo con questo tipo di di smalto penso moltissimo rinforza base indurente rafforzante eleviganti sbiancanti top coat brillante quindi fa tutto lui quindi poi ho preso il mascara dell'astra istalent a 2,90 euro le allunga per davvero quello lilla volevo provare anche quelli inculvanti a 2,90 euro mi piace moltissimo e sono tutti i prodotti astra sono tutti dermatologicamente testati e off-ta off-ta sono dermatologicamente testati sia per la pelle che per gli occhi quindi le consiglio 2,90 euro mi piace moltissimo posso vedere anche lo scovolino molto molto bello io mi citavo molto bene poi ho preso la seconda matitone astra prima l'altra volta ho preso il jumbo eye pencil per gli occhi e dura tantissimo stavolta ho preso il jumbo lipstick matitone labbra nella colorazione 24 questo nude per fare tutta la base per i rossetti o anche per usarlo come rossetto infatti non volevo prendere non voglio provarne uno per prendermi all over my mascara mascara in fondente persa faccio via è rimasto solo due colorazioni la più scura e la più chiara io ho preso la più scura che sembra grigia ma in realtà non è perché faccio vedere non è proprio grigina è molto scura è molto scura è molto scuretta quindi va benissimo e questo l'ho pagato al matitone il matitone l'ho pagato 3 euro matitone labbra invece astra mascara sopracciglia 3 euro quindi sono estremamente low cost e di facile reperibilità quindi non avete scuse quando faccio i video le sento un sacco di romita spero che il video vi sia piaciuto spero che la location vi piaccia con armadio e letto alle spalle luce naturale perché è troppo caldo iscrivetevi al canale lasciate un commentino che mi fa molto piacere mettete un mi piace così vi farò altri video perché ovviamente come tutti compriamo cose seguitemi su facebook su instagram su linkedin su snapchat su twenty one battles che mi piace moltissimo e niente vi saluto un grosso bacio un abbraccio forte forte ci vediamo al prossimo video ciao